Cos'è questa? E' una prugna calavrice. Ho sorriso, non sono una delle due. Tengo tutte e due le piante vicino, non si riesce ancora a vedere. Ma che cos'è un innesto? E' un innesto, si. Quando l'hai fatto? Due anni fa. E dove si vede che è un innesto? La spaccatura è questa, vede? La pianta è secata qua, è aperta, è messa la buca dentro. Una è questa e una si è tolta. Quindi hai fatto un innesto di prugne. Di prugne sorriso. Eccola qua. Questa qua è la prugna diciamo del nuovo albero. Nato dopo due anni dall'innesto. Due anni dall'innesto. E da dove hai preso questa? Eh, guarda, la mamma. Ah, la mamma è questa? Questa qua vicino? Sì, sì, ha sorriso. Ah, quindi le prugne che verranno saranno come queste qua. Ma sono... quando si potranno mangiare? Tra un quindici giorni. Da quindici giorni sono maturi. Ah, quindi diciamo questo è un innesto che è venuto bene. Fuori, sì. È venuto fuori. Ecco. E lo fai... l'hai fatto come... solitamente fai l'innesto, no? Sì, sì, a spacco. Eh, vabbè, già è venuta... già è venuta questa prugna. Ok. Questa altezza qua, eh? Dove l'hai dovuto? Diciamo, la pianta selvatica era questa qui. Questa è la pianta di pruna selvatica. Sì. L'hai spaccata qui? Sì. Si sega, si taglia. Si sega a metà, si sega a questo punto e si apre. E si apre. Poi si compra la pella con la pella della pella. Vabbè, come hai fatto a vedere nel primo video, quando hai fatto l'innesto, tu fai sempre nello stesso modo l'innesto. Sempre lo stesso modo, sì. E questa è venuta, è venuta anche bene. Va bene. Ok. Questo è un altro innesto? Non ha portato ancora frutta. Non ha portato ancora frutta. Però, diciamo, qui, abbiamo detto, l'hai tagliata qui. Sì. La pianta selvatica. Tagliata, ha messo le poverine. E quindi queste due, questi due rami qua, sono i due rami nuovi. È un ramo nuovo, un ramo e poi ha cacciato quest'altro qua. Però non ha fatto ancora la frutta. Non l'ha fatta ancora. La frutta, vabbè, comunque la farà. Quindi anche questo è un innesto andato a buon fine. È cresciuta molto alta. Grazie. Grazie. Grazie.